C'era un ragazzo di 28 anni che come noi amava la vita e la libertà, si era laureato alla Cambridge University e aveva scelto l'Egitto per fare il ricercatore. C'era un ragazzo di 28 anni che cominciò a scrivere il risultato dei suoi studi sulle lotte dei lavoratori egiziani. C'era un ragazzo di 28 anni che un giorno scomparve improvvisamente. Il suo corpo venne ritrovato martoriato da evidenti segni di tortura. C'era un ragazzo di 28 anni che era partito da Fiumicello, in provincia di Udine, per inseguire i suoi sogni ed i suoi ideali. C'è un ragazzo di 28 anni, si chiama Giulio Reggeni, vive in ognuno di noi per chiedere giustizia e verità. Reggeni, vive in ognuno di noi per chiedere giustizia e verità. C'era un ragazzo di 30 anni, si chiama Giulio Reggeni, vive in ognuno di noi per chiedere giustizia e verità. C'era un ragazzo di 30 anni, si chiama Giulio Reggeni, vive in ognuno di noi per chiedere giustizia e verità. C'era un ragazzo di 30 anni, si chiama Giulio Reggeni, vive in ognuno di noi per chiedere giustizia e verità. C'era un ragazzo di 30 anni, si chiama Giulio Reggeni, vive in ognuno di noi per chiedere giustizia e verità. C'era un ragazzo di 30 anni, si chiama Giulio Reggeni, vive in ognuno di noi per chiedere giustizia e verità. C'era un ragazzo di 30 anni, si chiama Giulio Buon primo maggio a tutti! Buon primo maggio a tutti! Ciao! Volevo cominciare leggendo un messaggio che ci è arrivato dai genitori di Giulio. Grazie mille a tutti voi che siete qui per divertirvi, cantare insieme e chiedere insieme il rispetto dei diritti per tutte le persone. Grazie! Non smettiamo di chiedere insieme verità per Giulio e tutte le persone che sono state private dei diritti e delle libertà. Buon primo maggio a tutti! Paola e Claudio Reggeni Sarà una giornata meravigliosa, piena di energia positiva, di musica dal vivo. In questi giorni abbiamo assistito alle prove musicali e ce n'è davvero per tutti!